Allora, inauguriamo questa sera il sesto ciclo di questi incontri ex libris che sono iniziati nel 2011, due incontri l'anno e siamo arrivati al secondo e ultimo incontro del 2013. Come sapete questi incontri sono sempre avvenuti all'interno di questa biblioteca con, diciamo così, che appartengono un po' alla nuova immagine, al nuovo stile di questa biblioteca che si è data da un paio di anni. Questi incontri hanno un aspetto, come dire, scientifico e ideativo che è stato portato avanti dalla professoressa Spalanzani che è qua e dal professor Foresti che invece non è qua questa sera. E questa è stata l'idea e sono stati ideati gli argomenti di questi incontri che, come sapete, hanno sempre come filo rosso il leggere, da cui non è casuale, che avvengono all'interno della biblioteca. Leggere nelle sue varie forme, ma prima di entrare nell'argomento dei nostri incontri, volevo completare la presentazione di tutti coloro che hanno contribuito in maniera assolutamente indispensabile all'organizzazione di questi incontri perché dicevo che oltre all'aspetto ideativo e scientifico della professoressa Spalanzani c'è l'apporto assolutamente fondamentale della direttrice di questa biblioteca e di tutto il personale che compone questa biblioteca che vorrei cogliere l'occasione pubblica in privato, ho già detto loro più volte, ma volevo anche farlo pubblicamente, che questa biblioteca sotto questa nuova direzione, questo nuovo impulso e personale sta assumendo un'identità che fino adesso non aveva avuto e un dinamismo che fino adesso non aveva avuto, di cui questi incontri sono la testimonianza più evidente, ma non soltanto questo. Poi ci sono, come in tutte le iniziative, oltre alle idee e all'impegno, servono i quattrini, e ci sono, c'è un impegno della scuola di lettere e beni culturali qui rappresentata dal presidente, il professor Marmo, quindi insomma qui ci sono un po' tutti gli autori, attori di questa iniziativa. Finito questo aspetto dei ringraziamenti, ma che però sono assolutamente dovuti e sinceri da parte mia, volevo passare all'argomento di questi incontri. Dicevo che questo è il sesto ciclo per il terzo anno consecutivo, spero poi che si andrà avanti anche nei prossimi anni, e le tematiche che sono state affrontate fino adesso, dicevo che come filo rosso, filo conduttore, hanno sempre il leggere per essere in accordo con il luogo in cui si svolgono. Nel 2011 il tema è stato, adesso lo trovo, nel 2011 è stato, sì però non è proprio il libro, ma, la metafora del libro, la natura, la definizione, la metafora del libro, argomento del 2011. Nel 2012 è stato, gli stili cognitivi e le diverse modalità della lettura, e questo ciclo del 2013 è leggere e studiare. Secondo me questa è stata un'idea particolarmente felice, se lo posso dire a cuor leggero perché non è stata una mia idea, particolarmente felice perché è un po', come dire, il coronamento più alto del ruolo di una biblioteca all'interno di una sede universitaria, perché gli studenti, molti dei quali sono qua, leggono in vari modi, almeno due, uno è la lettura per il tempo libero e uno è la lettura per lo studio, che evidentemente hanno caratteristiche, impegno, lasciatemi dire impegno cognitivo, così mi ricordo che insegno psicologia cognitiva, impegno cognitivo molto diverso. Ed è interessante che su questo argomento si riesca a mettere in piedi degli incontri con degli esperti, abbiamo stasera il professor Balzocchi e il professor Marmo, che sono qua come esperti di questi aspetti, e credo che sia importante venire a conoscenza di un qualcosa che empaticamente tutti sappiamo, tutti sappiamo che è diverso leggere il giornale dallo studiare o da leggere un libro per lavoro, però riuscire a collegare queste idee all'interno di due conferenze e poi di un confronto e auspico attraverso delle domande che voi farete, credo che sia un appuntamento importante. Questo è quanto avevo da dire, volevo però adesso passare la parola prima delle conferenze alla professoressa Spallanzani che è stata l'ideatrice di questi incontri. Innanzitutto io ringrazio il professor Nicoletti di avermi assegnato tutto questo merito, in realtà questo merito è da condividere insieme agli altri colleghi del... scusate, che però se va male dopo c'è anche la responsabilità. Sì, è questo, cioè in realtà è per questo. Ci sono gli altri colleghi del comitato scientifico che insieme a me hanno pensato e organizzato questi cicli di incontri. in fondo nella consapevolezza e nell'idea che la lettura non sia solo un'attività lontana dalla vita ma che sia piuttosto una forma di vita anche che la trasforma e la rende forse anche più interessante e meno insopportabile in certe occasioni. E l'ha ispirato anche l'idea che anche la vita possa essere pensata in fondo come la lettura di un libro un libro da scrivere da decifrare da completare e da proseguire lo diceva anche Montaigne che mi piace sempre citare a questo proposito in fondo questo libro ha fatto me così come io ho fatto lui. Il primo... il primo... ricordo il primo incontro del primo anno che fu aperto dal rettore il quale appunto ha rivendicato il ruolo fondamentale della lettura e della cultura del libro anche nella prospettiva addirittura più generale della fondazione di un nuovo umanesimo attento ai valori morali ai valori dell'intelligenza vigile sulle scelte politiche e intransigente sulla difesa della libertà. E l'avevamo e l'avevamo ribadito anche in occasione dell'apertura del terzo ciclo questo è il sesto quando il rettore aveva indicato nelle biblioteche i luoghi dell'esercizio e della pratica di tale umanesimo che è una cultura dell'uomo dell'uomo di ieri come dell'uomo di oggi di domani costruita anche sulle fatiche delle ore trascorse in biblioteca sui libri illuminate ricordo questa frase che mi sono segnata biblioteche illuminate nella notte dalle luci dei lettori proprio come la BDU in fondo che nella via Zamboni tiene accesa le sue le sue le sue luci e questa immagine del rettore che ci aveva consegnato queste lucine che traspaiono dalle finestre mi sembra quasi un emblema dei nostri incontri cioè queste lucine che sono qua e là e che ci indicano questa strada anche di questa conversazione che il libro come conversazione gli autori di libri come amici che possiamo con cui possiamo interrogare che possiamo anche far tacere quando non ne abbiamo più voglia sempre Montegna leggere e studiare è il titolo del seminario di quest'anno in cui noi abbiamo cercato anche di trovare un dialogo piuttosto ampio con altre discipline abbiamo cercato in effetti di convocare discipline scientifiche e a consegnarci l'epistemologia delle loro letture voglio dire che appunto abbiamo la consapevolezza che leggere e studiare sia una cosa molto diversa secondo dei campi che la lettura e lo studio investono e devo dire che il seminario la prima parte del seminario che abbiamo concluso a maggio e questo seminario che riprende questo stesso titolo ha confermato la pluralità delle voci che abbiamo la pluralità delle modalità di lettura abbiamo avuto i medici abbiamo avuto i veterinari avremo gli storici abbiamo gli psicologi per chiarire in fondo questa molteplicità di accessi cognitivi come diceva il professor Nicoletti alla lettura che non è un'attività univoca ed è molto complessa e anche molto problematica tanto da suscitare addirittura varie interpretazioni che fin dall'inizio hanno segnato le diverse culture del libro i colleghi la parola quindi va ai colleghi Bazzocchi e Marmo proprio perché ci dicano come che cosa significa leggere e studiare questa cosa generalissima a partire dalla disciplina che praticano grazie bene ma va là mi conoscono tutti allora io sono molto legato a questa biblioteca anche se quando devo dire che quando la frequentavo assiduamente cioè non come adesso che vengo a prendere un libro ogni tanto ma quando la frequentavo assiduamente questa biblioteca era secondo me una specie di di pasticceria per un bulimico cioè era una roba dove uno entrava e allora non c'erano schedari telematici o informatici per cui era già era già un gusto poter guardare nello schedario cartaceo io avevo fatto un patto con le bibliotecarie non di questa biblioteca perché non ero in confidenza ma della mia biblioteca che allora era già la biblioteca dell'italianistica qui di fianco il patto era io avevo chiesto loro di essere chiuso nei sotterranei della biblioteca per qualche pomeriggio alla settimana io naturalmente mi impegnavo a sorvegliare i sotterranei non rubavo libri ma stavo chiuso di sotto tipo dalle due alle sei di sera e devo dire che tutto quello che ho studiato ho letto l'ho letto in quell'occasione lì nei sotterranei si stava benissimo perché erano molto caldi d'inverno e molto freschi d'estate e non c'era nessuno che parlava una volta allora scendevano appunto a prendere i libri ma non era un fastidio non era un fastidio che interrompesse il lavoro il problema è che appunto io in realtà io non studiavo e forse neanche leggevo come dire io mi divertivo a guardare tanti libri ecco non so a leggere una pagina di un libro o una pagina di un altro perché in realtà mi piacevano tutti poi i libri che erano lì nel senso che magari dovevo partire cercando una cosa ma poi mi perdevo non era per me quello non era per me mai possibile tornare a casa avendo realmente fatto il compito che mi ero preposto o prefisso dunque quando la mia cara collega e amica Maria Franca mi ha proposto questo tema leggere e studiare io ho cominciato un po' a pensarci ma ci ho pensato ho pensato in che modo porre questa distinzione prima Nicoletti ha detto appunto due modalità cognitive allora ho cercato di risalire un po' di risalire un po' indietro nel tempo e di fare una specie di ricognizione innanzitutto questa differenza esiste o non esiste dunque esiste secondo me ed esiste soprattutto nei nostri giorni perché lo ha detto anche prima Maria Franca in un certo senso oggi la lettura è diventata un aspetto di stile di vita cioè l'immagine del lettore è diventata non più un'immagine professionista o professionale ma è diventata qualche cosa che sta a metà tra l'utilizzare bene il proprio tempo avere degli interessi e capitalizzare qualche esperienza intellettuale cioè voi lo vedete anche intorno questa è una cosa che è nata forse a metà degli anni 80 pressa poco poi vi dico perché a metà degli anni 80 cerco di dirvelo meglio però è nata questa idea di definire lettore chiunque volesse guardare le cose intorno a sé quindi non si parlava solo di lettori si è cominciato a parlare non solo di lettori di libri ma il lettore era un po' questa figura che circolava nell'aria qualcuno che cercava diciamo così di interpretare dei segni dei segni che erano al di là appunto al di là della professione di Costantino e della semiotica segni in varie accezioni allora io penso che ci sia alla base una specie di divarificazione che si è verificata e adesso vi dirò secondo me quando ma non ve lo dico perché l'ho inventato io ve lo dico sulla base di due o tre idee che ho ritrovato cioè questa divarificazione in pratica dalla parte dello studio si è andato ponendo tutto ciò che ha a che fare con un risparmio e una capitalizzazione del tempo e naturalmente delle esperienze di lettura cioè lo studio non è semplicemente un leggere ma è un leggere finalizzato a qualche cosa e quindi è un leggere che si deve dare delle regole poi queste regole cambiano naturalmente ma di solito lo studio è riferito a un'attività specifica della vita che è quella appunto in cui si è studenti quindi lo studio è diventato in un certo senso studiare è diventato un verbo che indica un'attività non professionale ma di avviamento a una professione diciamo così no? Mentre invece nel verbo leggere è sempre rimasto questa specie di godimento libero cioè il lettore non ha dei vincoli chi studia ha dei vincoli si deve dare dei vincoli cioè se io studio perché devo dare un esame o se studio perché devo scrivere un articolo ho bisogno di darmi dei vincoli e questi vincoli sono di tempo ma sono anche di numero di pagine che io posso mettere a frutto no? Cioè io non posso leggere più di tot pagine se devo dare un esame così che io non potrò mai leggere più di tot pagine se devo scrivere in un mese o in due mesi o in tre mesi un articolo ecco dalla parte dello studiare dunque c'è qualche cosa di virtuoso secondo me di virtuoso è un po' anche se volete nell'ottica di un'etica quell'etica protestante spirito del capitalismo come avrebbe detto Weber no? Cioè studia perché devi arrivare a un certo risultato perché devi rendere conto qualcuno devi rendere conto qualcuno ora è chiaro che dobbiamo sempre rendere conto qualcuno però devi rendere conto qualcuno che può essere appunto qualcuno che ti giudica sulla base di quello che hai studiato e del modo in cui hai studiato di cui naturalmente tutta una serie di precettistica legata anche allo studio sarebbe anche interessante vedere come nei secoli è cambiata questa precettistica ma io credo che le regole di fondo di questa precettistica siano sempre rimaste pressa poco le stesse invece la lettura diventa una specie di godimento o addirittura di vizio non è un caso che ci siano appunto molte metafore che avvicinano la lettura per esempio alla masturbazione ci sono scrittori vi farò un esempio Proust a un certo punto parla dei pomeriggi passati a leggere nascosto in una specie di piccolo luogo chiuso che poi è una specie di gabinetto all'aperto in realtà probabilmente della casa di campagna e lui avvicina chiaramente il piacere della lettura dice ad altri piaceri e si capisce che quegli altri piaceri dal giro di immagine chiusa sono appunto piaceri di scoperta sessuale questa cosa fa un po' ridere oggi però io non la trovo così non la trovo così sbagliata in effetti cioè non la trovo così fuori fuori di senso che nella lettura ci sia qualcosa di solipsistico e a volte anche di geloso legato come dire alla propria dimensione privata ecco questo credo che sia comunque un'esperienza che ogni lettore fa quando si legge si è un po' gelosi di quello che si legge ci si vuole in un certo senso chiudere dentro una specie di affettività privata e a volte appunto ci vuole godere da soli insomma ci vuole godere da soli poi negli anni Ottanta era uscito un romanzo di Calvino appunto se una notte di inverno un viaggiatore dove Calvino utilizzava la metafora della lettura mescolandola con quella della conoscenza dell'altro in questo romanzo il lettore si chiama lettore la lettrice ha dei nomi femminili e poi alla fine insomma il romanzo finisce con il lettore e la lettrice che vanno a letto insieme e quindi in un certo senso era un leggere un leggere che portava dentro anche una specie di norma familiare però le cose non sono così semplici probabilmente probabilmente l'avete già sentito dire per cui non vi sto neanche a leggere il passo che la prima testimonianza che noi abbiamo appunto la prima testimonianza culturale sulla lettura come attività risale a Sant'Agostino e al fatto che Sant'Agostino nelle confessioni il rettore qui è contento però del resto non è così è così sì sì che Sant'Agostino nelle confessioni dice che lui a un certo punto sapete che Sant'Agostino è un ricano però finisce a Milano e a Milano si incontra il suo padre spirituale diciamo così che è Sant'Ambrogio e allora lui dice che rimane stupito del fatto che vede Sant'Ambrogio che è il vescovo di Milano nel suo studio dove evidentemente potevano entrare tutti però lui dice quando entravamo io e gli altri in questo studio evidentemente è uno studio aperto insomma una casa dove gli studenti giravano dice rimane stupito del fatto che Sant'Ambrogio legge con gli occhi cioè legge solo con gli occhi dice i suoi occhi scorrevano sulle pagine e la mente ne penetrava i concetti mentre la voce e la lingua riposavano e questa probabilmente è la prima testimonianza della lettura come la intendiamo noi fino a quel momento la lettura era considerata un atto che si faceva ad alta voce che aveva diciamo comunque aveva una sua dimensione pubblica si leggeva per farsi sentire anche in privato comunque c'era bisogno di farsi sentire e invece Sant'Agostino dice appunto a Sant'Ambrogio legge forse perché non voleva che altri intervenissero nella sua lettura o forse perché senza di quanto fare lezioni aveva bisogno di riposare la voce e questa è una cosa che a me appunto mi è sempre colpito il fatto che noi possiamo definire fisicamente quando avviene il primo atto di lettura come la intendiamo noi la lettura appunto con la testa sul libro e con gli occhi finiti sulle pagine un po' più difficile sarebbe appunto invece definire quando avviene la prima quando si comincia a parlare di studio quando si comincia a parlare di studio Roland Barthes che era abbastanza esperto di lettura e in un certo senso un po' uno dei personaggi chiave di quello che è successo tra gli anni 60 e gli anni 80 in Europa per quanto riguarda una modificazione del modo con cui abbiamo concepito anche tutte queste attività di lettura e interpretazione e tutto quello che era legato al mondo della cultura umanistica diciamo così ecco Roland Barthes fa un discorso abbastanza interessante che è questo che in un certo senso non solo la pagina di Sant'Agostino ci documenta quando nasce la lettura ma ci documenta anche quando la corporeità viene messa sotto controllo attraverso la lettura cioè io non leggo più ad alta voce non leggo più in piedi non leggo più di fronte a un pubblico ma sono nel mio studio a leggere con gli occhi sulla pagina e Barthes dice che questo è una specie proprio di punto una svolta epocale e subito dopo avere citato questa cosa Barthes dice che in un certo senso nasce lui lo chiama un modello cristiano cristiano in senso lato naturalmente un modello cristiano di lettura ed è una lettura che non implica più la presenza della corporeità è la lettura che non passa per il corpo cioè una lettura trasparente una lettura appunto che che perde perde in densità diciamo così e per Barthes bisognerebbe ricostruire questa specie di storia della lettura che avviene poi nel Medioevo non so nei conventi il monachesimo lui cita la regola di San Benedetto ora legge et labora e tutta una serie di cose di questo genere che adesso non sto a tirar fuori proprio per arrivare a questa specie di definizione della lettura come ascesi spirituale che è una come dire che è esattamente il contrario di quello che invece consideriamo noi la lettura se qualcuno di voi ha letto come immagino il romanzo di Calvino si ricorda che il romanzo di Calvino io l'ho sentito è una cosa strana Calvino fece una mossa molto strana prima di farlo uscire venne letto l'inizio del romanzo di Calvino in televisione io mi ricordo perfettamente che stavo guardando il telegiornale e ho sentito per qualche minuto la lettura delle prime pagine di sei una notte di inverno un viaggiatore dove Calvino si rivolgeva al lettore e gli diceva praticamente mettiti comodo stai steso stai seduto mettiti sulla poltrona che ti piace di più mettiti su una maca se vuoi mettiti a testa in giù se vuoi mettiti con le gambe incrociate insomma era tutta una serie di come dire di consigli performativi al lettore per per introdurre appunto questo questo libro che doveva contenere tutta la gamma dei piaceri della lettura ecco a pensarci bene la lettura la lettura completamente opposta di quella origine della lettura di cui parla Sant'Agostino e che Barth dice la lettura come ascesi però Barth si dice anche ma com'è possibile che fino che ai nostri giorni che noi insomma noi invece connettiamo al tema della lettura il godimento perché eventualmente potremmo dire che l'ascesi la regola l'ordine sta da parte dello studio lo studio ha anche anche delle modalità fisiche no? se studi si puoi studiare anche steso nel letto o stravaccato però studio implica implica una attenzione un'attenzione anche posturale posturale tutti siamo stati tormentati dal fatto che bisogna studiare seduti in un certo modo perché dopo altrimenti ti rovini la schiena ti viene la scogliosi eccetera eccetera devi avere una certa luce devi essere poi quando abbiamo cominciato ad usare il computer devi essere a una certa distanza dal computer perché perdi la vista cioè tutta questa precettistica no? questa precettistica che 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 negli anni abbiamo sentito attorno noi era tutto se ci pensate bene era tutto una modalità di configurazione posturale del corpo dello studio e questo è molto interessante a pensarci bene perché tutto quello che non è postura giusta o che non è regola va dalla parte invece della lettura leggere puoi leggere puoi leggere in qualsiasi modo appunto stravaccato sul letto gambe incrociate a test in giù a test in su eccetera eccetera e allora Barth in effetti c'è un momento in cui tutto cambia e il momento lui non cita questo passo ma io se posso posso lo cito è un momento io con i miei studenti di solito lo leggo sempre per cui se c'è qualche mio studente mi ha già sentito leggere questa cosa è un momento del Don Quixote di Cervantes dal punto di vista cronologico Montaigne e Cervantes sono due contemporanei non è un caso che Maria Franca che conosce bene Montaigne abbia citato Montaigne ma direi che in questo momento cambia qualcosa cambia qualcosa sì ho detto stravaccati però non caduti per terra magari dunque cambia qualcosa la frase che Maria Franca ha citato cioè Montaigne che dice io scrivo il libro non più di quanto io stesso sia scrivo il libro entra in questa atmosfera allora voi sapete la questione di Cervantes è una questione che ci tocca tutti da vicino in realtà perché Cervantes aveva capito una questione che ancora oggi noi non possiamo fare a meno di porci con forme diverse la questione è questa leggere rovina la nostra immaginazione è esattamente quello che continuamente ci chiediamo oggi magari diciamo non leggere per guardare la televisione per guardare un film eccetera eccetera ma la domanda è la stessa cioè fino a che punto la nostra immaginazione può essere trasmata dice Cervantes dalla lettura di testi che ti fanno diventare matto che ti fanno diventare matto no? allora c'è questa se qualcuno di voi ha letto il Don Quixote sa che nel Don Quixote ci sono due figure molto simpatiche che sono il canonico e il barbiere che sono quelli che vorrebbero far tornare Don Quixote alla saggezza no? c'è una scena dove lo mettono in gabbia lo vogliono convincere appunto che deve ritornare saggio e allora in questa scena circa a metà della prima parte del Don Quixote uno dei due adesso il canonico il canonico pone a Don Quixote questa domanda dice ma è mai possibile signor cavaliere che la disgustosa e sciocca lettura dei romanzi cavallereschi le abbia tanto sconvolto il cervello da credere ad essere incantato ed altre cose di questo genere così lontane dal vero quanto la stessa menzogna dalla verità e com'è possibile ad intelletto umano credere che vi siano state al mondo quelle infinità di amadigi e quella turba di famosi cavalieri di imperatori di trebisonda di felice di ircania di palafreni donzelle rante serpenti draghi giganti inaudite avventure infinite specie di incantesimi battaglie enormi incontri bizzarrie costumi principesse innamorate scudieri che diventano conti nani nani buffi bigliettini dolci dichiarazioni amorose donne guerriere finalmente tante così grandi stravaganze che si trovano nei romanzi cavallereschi questa è la domanda con la quale inizia quella che noi chiamiamo l'epoca moderna per quanto riguarda la letteratura com'è possibile leggere delle sciocchezze è possibile che la lettura si dedichi a cose così stupide come gli amori o le avventure di Amedici di Gallia o la principessa di Trebisonda o i draghi eccetera eccetera ma è possibile appunto che tutta Europa segua questa cosa che tutti si appassionano a leggere queste cose eccetera eccetera e Don Quixote dà una risposta che è che è bellissima che è la risposta che ogni lettore deve dare è la risposta del lettore vero signore mi pare che il suo discorso abbia avuto in mira di persuadermi che i cavalieri erranti non sono mai esistiti che tutti i libri cavallereschi sono falsi e bugiardi e inutili e che io ho fatto male a leggerli peggio a crederci e peggio ancora ad imitarli mettendomi come ho detto a seguire la durissima professione della cavalleria errante sì dice il carolico proprio così la signoria vostra ha poi aggiunto che questi libri mi avevano fatto un gran danno perché mi avevano sconvolto la testa e ridotto al punto di dover essere messi in gabbia verissimo ora io dal canto mio ritengo che l'insensato e l'incanto sia proprio scusate l'insensato e l'incantato sia proprio la signoria vostra dal momento che si è messa a dire tante bestemmie contro un fatto così accettato nel mondo e ritenuto tanto vero che chi lo negasse come fa lei meriterebbe la medesima pena che la signoria vostra dice di voler infliggere i libri che legge e qui Don Quixote comincia a fare una difesa incredibile di tutto quello che ha letto due pagine bellissime dove lui dice ma qual è il più grande piacere? il più grande piacere è appunto mettersi lì e sentire che a un certo punto c'è una principessa prigioniere un drago la sta per uccidere arriva un cavaliere e la libera oppure pensare che c'è un lago dal quale improvvisamente esce una mano con una spada magica che viene donata a un cavaliere questo è il più grande piacere ora la difesa di Don Quixote è appunto il momento è l'altro grande momento di come dire l'altro grande momento proprio epocale no? la lettura è una trasgressione ed è una trasgressione talmente forte che modifica il nostro modo di vedere la realtà e questo è appunto questo è il punto che da Cervantes a Flaubert che da Flaubert a Proust che da Proust a Calvino nessuno scrittore ha mai voluto né potuto negare la vera trasgressione è la lettura di godimento nella lettura di godimento nella lettura di piacere ci sono tutte queste cose c'è l'immaginazione c'è la fantasia sfrenata c'è il corpo che trova un altro un altro tipo di dimensione per 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 entrare in rapporto con la realtà e la società occidentale come la conosciamo noi cioè il mondo del quale siamo in un certo senso figli e prodotti da questo momento in poi non ha potuto fare a meno di vedere la divaricazione fra queste due cose leggere è abbandonare la verossimiglianza ma anche abbandonare qualche cosa di più importante diciamo è abbandonare il contratto il contratto fra gli uomini è abbandonare abbandonare se stessi a qualche cosa di pericoloso e allora io penso che la scuola sia stata inventata come diciamo la scuola in quanto pratica moderna diciamo dalla rivoluzione francese in poi per dirci è stata inventata proprio per tenere sotto controllo questo rischio la scuola e lo studio sono le modalità con cui noi abbiamo bisogno di tenere sotto controllo questo rischio quindi noi abbiamo bisogno che lo studio l'attività appunto che dicevo prima razionale capitalizzata formalizzata il modo con cui appunto le società occidentali si sono create delle strutture le aule i banchi la cattedra il modo con cui il professore si pone di fronte alla classe il modo in cui la classe guarda il professore tutto questo è il frutto con cui la società occidentale moderna ha dovuto tenere sotto controllo i rischi dei libri qualcuno potrebbe dire beh allora questo è un dualismo dal quale non si esce no non sto dicendo che è un dualismo dal quale non si esce sto dicendo che ognuno di noi è ben consapevole di questo dualismo e non è possibile secondo me io non so se per uno scienziato o per un ingegnere o per un chimico le cose vadano così io so solo che per chi ha a che fare con quella parte della cultura che si chiama cultura umanistica non è possibile tener conto di questa dialettica cioè che i libri ti portano sempre da un'altra parte e che se tu non avessi delle strutture che ti aiutano a ritrovare te stesso i libri ti porterebbero verso qualche cosa che alla fine ti fa perdere i libri ti fanno perdere la lettura ti disgrega la lettura non ti consente una formazione non ti consente di diventare un buon bambino la lettura ti fa rimanere sempre Pinocchio non diventi un ragazzino saggio io non credo che la lettura sia formativa credo che lo studio sia formativo e che la lettura sia invece deformante sempre deformante ma credo anche che per ognuno di noi sia impossibile sottrarsi appunto a questo gioco cioè come dire è un compromesso un compromesso che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle perché quando io sono lì e sul tavolo ho cinque libri con i quali devo scrivere un articolo io guardo gli altri cinque libri che non mi servono a scrivere quell'articolo perché? perché la mia testa va da un'altra parte esattamente come la testa di Don Quixote perché appunto la lettura è qualche cosa che mi tira sempre verso sentieri laterali e invece noi sappiamo bene che abbiamo bisogno di seguire in un modo o nell'altro o con un compromesso o un altro un sentiero allora la seconda pagina poi mi fermo la seconda pagina ne avevo quattro ma ne leggo solo due la seconda pagina che vi volevo leggere un po' alla fine di questo percorso è appunto la pagina in cui Proust alla fine della sua opera dice una cosa che mi sembra fondamentale cioè sempre nell'ottica appunto di questo rapporto tra la lettura in senso forte e lo studio in senso ancora più forte cioè vi ricordate lui ha cercato per tutta la vita di capire quali erano le cose che attorno a lui si muovevano e lui dice chiaramente ha cercato di leggere dei segni perché perché Albertin si comporta così perché Charles si comporta così perché alla serata dei principi di Germant succedono queste cose e in tutta la ricerca lui dice che non capisce o ci mette nelle condizioni appunto di non riuscire a trovare una spiegazione poi alla fine nell'ultima l'ultima scena la mattinè la famosa mattinè dei principi di Germant lui scopre una regola o perlomeno pensa una regola e la regola è questa che tutto quello che lo circonda va letto in profondità cioè che bisogna leggere in profondità tutti questi segnali bisogna riuscire a metterli insieme e allora lui dice lui usa il verbo leggere proprio in una serie infinita di volte e ridà al verbo leggere un valore come diceva prima Maria Franca un valore vitale proprio non è solo il godimento qui è qualche cosa di più e allora a un certo punto dice ma l'intelligenza qui non serve più io ho sempre trovato molto imbarazzante questa cosa che Proust dice perché Proust dice proprio che l'intelligenza non serve a capire a capire la realtà cioè ci vuole prima un'altra cosa e la cosa che ci vuole prima dice è quell'insieme di segni materiali che sono entrati in noi attraverso i sensi e che hanno scritto dentro di noi il libro interiore il libro interiore il libro interiore di segni sconosciuti ma nessuno ci può aiutare a decifrarlo perché la sua lettura consiste in un atto di creazione in cui nessuno può sostituirci e nemmeno collaborare con noi ecco per me questo è il momento più alto in cui la lettura acquista un senso cioè la lettura qui proprio è è proprio la configurazione di sé cioè non è la disgregazione di cui parlavo prima non è l'andare a perdere se stessi non è il seguire i fantasmi non è il seguire le chimere ma è l'interrogarsi quotidianamente su questi su questo libro che ci portiamo dentro e questo libro che ci portiamo dentro è una specie di cura di sé leggere in questo libro diventa cura di sé e allora ancora una volta l'intelligenza sì ma l'intelligenza dopo che abbiamo interpretato i segni dopo che abbiamo letto i segni cioè la lettura in un certo senso la lettura di questo libro interiore ci trasforma di continuo e forse l'intelligenza ci può aiutare in un secondo momento a cogliere il senso il senso di questa trasformazione il libro interiore possiede il libro interiore che dovremmo leggere ognuno di noi deve leggere senza potersi fare aiutare da nessun altro possiede un valore assoluto da dove gli deriva questo valore assoluto dal fatto che è necessario cioè è ineludibile cioè è l'esterno che ce lo impone è dall'esterno che ci viene questa imposizione cioè da fuori ci viene l'imposizione che ci costringe a leggere dentro noi stessi alla fine dello suo ultimo discorso critico che si chiamava mondo scritto e mondo non scritto Calvino dice questa stessa cosa con una forma più fredda se volete più algida e dice che ogni lettore il vero lettore cerca di uscire dal silenzio e di capire cosa c'è che batte colpi su un muro che si vuole far sentire da lui cioè il vero lettore sente che dall'esterno c'è qualcosa che si si fa sentire che si vuole far sentire come battendo colpi su un muro di prigione ecco credo che sia questo il nucleo del rapporto forte tra questi due verbi tra queste due attività leggere e studiare credo che dovremmo appunto dovremmo appunto reinterpretare o interpretare il rapporto in questo senso interpretandolo in questo senso è impossibile non riconoscersi sia lettori che studiosi ed è impossibile secondo me scindere queste due parti della propria testa del proprio cervello della propria pratica non si può non si può essere lettori senza diventare anche studiosi e non si può diventare studiosi senza essere lettori grazie 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 molte l'intervento l'intervento di Marco ha suscitato in noi tanti interrogativi e tante domande a cui poi daremmo in qualche modo voce passo il microfono la parola a Costantino Marmo che ringrazio di avere accettato di essere con noi non ti presento non ti presento presidente della scuola professore di filosofia e teorie del linguaggio autore di libri e lettore di libri grazie ancora grazie grazie per avermi invitato a questa serie di incontri che conoscevo per fama più che per aver frequentato purtroppo non c'è sempre tempo per fare tutto quello che vogliamo il mio approccio rispetto a quello di Marco sarà un po' diverso un po' più pedante nel senso che parto non tanto dalle mie idee su cosa siano studiare e leggere ma ho preparato un paio di se riesco a far funzionare cosa fare un paio di schede partirei da da quei libri che non servono che non si leggono né si studiano che sono i dizionari fondamentalmente e che secondo me vanno invece ho l'idea di stimolare gli studenti a usare sempre di più sono i dizionari che non si leggono a parte credo che fosse Montanelli che consigliava di tenere sul comodino un dizionario il dizionario della lingua italiana e la bibbia è una cosa che scherzando vedo alcune falce note qui tra il pubblico dei miei studenti è una cosa che scherzando dico sempre ai miei studenti del primo anno di scienza della comunicazione leggete ogni sera una pagina di dizionario della lingua italiana perché vi serve vi serve comunque non sapete perché ma vi serve almeno fino alla lettera di per cui io partirei da ho preso un paio di dizionari lavorando qui di fianco sono diventato un utente abbastanza assidore di questa biblioteca e quindi vi vi farei vedere appunto alcune cominciamo da studiare però non da leggere poi nel mio discorso se riuscirò a condurlo a termine ritornerò su studiare perché su alcune cose forse non sono del tutto d'accordo con con quello che ha detto con quello che ha detto Marco e poi farò riferimento eventualmente anche a scusate anche a esperienze personali tra l'altro tra parentesi sono uno abbastanza digressivo come sono i miei studenti per cui apro parentesi poi non li chiude mai ho incontrato Marco ormai tantissimi anni fa sui banchi dell'università diciamo che non c'erano i banchi ma comunque le sedie dell'aula in cui Umberto Eco teneva il suo seminario del sabato udite udite una volta si facevano i seminari anche il sabato mattina e questi seminari erano seminari diciamo così avanzati noi erano fine anni 70 inizio anni 80 proprio gli anni in cui usciva tra l'altro sia il libro di Calvino di cui si è parlato sia il nome della Rosa insomma sono anni molto molto pieni di di opere interessanti e poi ci siamo rincontrati anche e anche questo secondo incontro vorrei riprendere più avanti perché ci siamo rincontrati anni dopo negli anni 90 attorno a un progetto che abbiamo portato avanti nel 93 dal 93 in avanti e questa Encyclopedia di cui ancora si parla tra l'altro vedo che era uno dei primi ipertesti multimediali che abbiamo appunto progettato e scritto insieme io facevo un po' da coordinatore editoriale e lui era tra i miei autori diciamo così e poi appunto vorrei tenere presente questo episodio perché la questione della lettura dell'ipertesto che allora si presentava come una diversa modalità di lettura dei testi può tornarci utile quindi partirei da queste definizioni dizionariali cominciando naturalmente dall'etimologia lontana perché in realtà l'etimologia sarebbe studio appunto il verbo che è attestato in italiano già dal XIII secolo e in realtà che deriva da studio studere adoperarsi con divigenza applicarsi con zelo aspirare desiderare cercare di ottenere qualcosa occuparsi vivamente di qualcosa anche studiare appunto e tutto ciò e si lega anche a proprio una passionalità che su cui vorrei tornare proprio alla fine desiderio amore gusto passione interesse predilezione propensione ho preso due dizionari De Mauro e Sabatini Coletti che presentano anche alcune differenze su cui vorrei soffermarmi e alcune caratteristiche molto utili parlo sempre per i miei studenti vedete che prima di ogni significato di elencare una serie di significati presenta una sigla fo oppure co qua sotto fo fa riferimento è una cosiddetta marca di frequenza cioè il il dizionario il gradit il grande dizionario della lingua italiana di De Mauro è un dizionario dell'uso fondamentalmente dell'italiano e si sono premurati di misurare in qualche maniera qual è la frequenza delle parole dei significati ecco non delle parole dei significati di certi significati delle parole e hanno suddiviso diciamo così queste marche di frequenza in diversi livelli di competenza che sono richiesti per comprendere determinati significati fo fa riferimento al dizionario all'essico fondamentale cioè quello che più o meno tutti tutte le persone che hanno un livello minimo cioè minimo un livello medio diciamo così di istruzione dovrebbero avere comprende mi pare una 5.000 termini con i loro significati mentre co è invece fa un po' forviante perché vuol dire comune lessico comune in realtà è un livello più avanzato cioè è il livello di competenza lessicale che dovrebbe avere una persona che ha compiuto studi superiori fondamentalmente cioè quello che fondamentalmente dovrebbero avere i nostri studenti che le matricole del primo anno e scorrendo molto velocemente troviamo appunto che studiare apprendere o elaborare un argomento una disciplina una tecchia con arte applicandosi metodicamente con il sussidio di libri o di altri strumenti con o senza la guida di un insegnante questo diciamo è il significato fondamentale e anche quello che descrive quello che in termini di semantica semantica dei frame alla film eccetera eccetera è diciamo la scena prototipica dello studio quella che un po' descriveva prima anche anche Marco e cioè dello star seduti composti e del seguire linearmente metodicamente applicarsi quindi con metodo e alla lettura principalmente come vedete il libro viene in prima battuta perché è sul libro fondamentalmente che si esplica principalmente esemplarmente lo studio e poi è molto importante anche l'osservazione con o senza la guida di insegnanti perché fa proprio riferimento al fatto che uno può anche studiare da autodidatta non c'è bisogno che segua l'insegnamento di nessuno uno può essere autodidatta e a quel punto succedono un po' le cose che raccontava prima cioè che uno abbia una formazione lacunosa poi alla fine perché se non c'è una guida quello che dico sempre agli studenti l'università nasce proprio per costruire per accompagnare gli studenti nella propria formazione la scuola funziona proprio così c'è bisogno di qualcuno che ti faccia seguire delle tappe dei gradini per raggiungere determinati obiettivi cognitivi e appunto la guida degli insegnanti diventa importante se uno non vuole essere un'autodidatta poi vedete che c'è c'è una ci sono anche nei dizionari delle delle abbreviazioni tr sta per transitivo intr sta per intransitivo dico delle banalità però lasciatemi le dire as invece significa assoluto cioè quando il verbo può indica che questo verbo può essere usato anche in modo da solo diciamo così senza cioè un oggetto che sia diretto un complemento oggetto per intenderci e infatti questo corrisponde al seguire regolamente un corso di studio come quando appunto qualcuno chiede a qualcuno di voi che fai? Studio studio senza nient'altro e poi se uno vuole andare avanti nel dialogo chiederà ma che cosa studi e qui passa quindi dall'uso assoluto all'uso transitivo del verbo e poi ci sono altri altri significati esaminare considerare escogità che sono più specifici diciamo così e poi l'ultimo è controllare misurare i propri atti o le proprie parole cioè quindi è che fondamentalmente potete pensare a un comportamento studiato questa è l'accezione appunto di questo tipo di di parola il sabatini coletti è invece un dizionario che diverge un po' proprio su questo aspetto del transitivo assoluto quello che dà per scontato un po' de Mauro è che sia lo stesso verbo fondamentalmente che si può presentare con un oggetto oppure senza oggetto ma non sono due accezioni diverse invece il sabatini coletti fa distingue proprio un verbo transitivo che è quello che è un oggetto e quindi studiare qualcosa fondamentalmente e non è che cambia molto anche qui ci sono i libri in prima battuta altri strumenti e anche l'eventuale guida di un insegnante o meno e poi gli altri che abbiamo visto c'è questo che è diverso ecco questo senso antiquato antico obsoleto che è affrettare qualcuno che si trova in Dante purgatorio nel purgatorio quando poco prima di incontrare di passare insomma c'è un muro che separa il purgatorio dal paradiso al di là del muro c'è Beatrice e Virgilio dice a Dante non va restate ma studiate il passo quindi affrettatevi e vedete che distingue proprio completamente il senso transitivo dal senso intransitivo perché ha una c'è un'attenzione questo dizionale ha un'attenzione particolare per le strutture sintattiche fondamentalmente siccome ha un comportamento sintattico diverso allora è un senso diverso è un senso questo vi suggerisce che tra i linguisti non c'è accordo su come trattare dal punto di vista semantico questo verbo perché appunto si tratta in questo caso e non è l'unico esempio non è l'unico esempio anche il verbo mangiare per esempio bere il verbo dipingere il verbo disegnare ecco possono essere usati in modo assoluto e allora in qualche maniera hanno in sé l'oggetto che non è espresso hanno in sé e hanno in sé l'oggetto che può essere un oggetto un oggetto specifico come può essere appunto quando uno dice studio pensiamo sempre che sia una materia una disciplina o può essere anche un libro perché no però appunto l'oggetto non è definito in maniera precisa invece nel caso di mangiare ovviamente deve essere qualcosa di commestibile qualcosa un pasto fondamentalmente così come bere sarà una bevanda eccetera eccetera anche qui vediamo velocemente troviamo la stessa distinzione tra un senso assoluto e un senso invece transitivo in senso proprio e nel primo senso deve scorrere con la vista i caratteri della scrittura distinguendo i suoni rappresentati dalle lettere e comprendendo più o meno completamente il significato delle parole e frasi qui ci si vede io mi figuro veramente De Mauro avendolo conosciuto personalmente che dice sì è vero che quando si legge qualcosa bisognerebbe comprendere tutto però non è vero che si debba comprendere tutto succede a chiunque gli dizionali poi servono a quello quindi in qualche maniera giustifica il proprio lavoro però appunto mi interessava proprio questo questo legame stretto tra scrittura e suono fondamentalmente perché è una costante è una costante che vedremo anche in alcuni testi non li citerò proprio tutti altrimenti non finiamo più però poi ci sono altri sensi come prendere conoscenza del contenuto dello scritto attraverso la lettura in senso assoluto amare la lettura dedicarsi ad essa qui troviamo tutte le tematiche di cui parlava prima Marco e poi pronunciare a voce alta un testo per comunicare ad altri il contenuto c'è ancora insomma questo senso della lettura a voce alta benché da Agostino in avanti la lettura sia diventata anche lettura con gli occhi e c'è il senso a cui allude a cui allude probabilmente l'ultimo senso a cui allude Proust quello della decifrazione di segni non convenzionali che possono essere qui si parla anche di messaggi cifrati di formule chimiche matematiche eccetera ma anche perché no la lettura del mondo la lettura dei segni del mondo ha sempre fatto parte del nostro bagaglio e poi questa accezione figurativa la faccio brevissima anche qui trovate la stessa dicotomia la stessa approccio diversificato c'è un'accezione intransitiva una transitiva per cui qui vedete riconoscere i segni della scrittura in termini significati dedicarsi alla lettura riconoscere i segni della scrittura con i quali è composto un determinato testo poi comunicare altavoce eccetera interpretare un testo scritto un'opera d'arte un evento raggruppa qui tutte queste cose perché mi sembra interessante la differenza c'è una differenza sottile tra le due voci in questo caso De Mauro fa riferimento ai caratteri della scrittura mentre Sabatini Coletti parla di segni della scrittura perché Sabatini Coletti tiene presente il fatto che le scritture le forme di scrittura sono molto diverse e non tutte sono alfabetiche ovviamente noi parliamo di leggere anche per quando parliamo di un giapponese che affronta un testo scritto in giapponese il giapponese sapete che non ha un alfabeto è un sillabario è un sillabario quindi ha 106 caratteri che stanno per delle sillabe i quali composti insieme danno delle parole polisillabiche quindi in più ci sono anche i kanji cioè i caratteri cinesi importati nell'ottavo secolo addirittura in giappone che si integrano con questo sillabario iragana e la lettura del giapponese vi assicuro che può essere è molto difficile ci mettono 10 anni per imparare a leggere in giappone e poi mio figlio è appassionato di questa roba qui lui ha imparato tutto il sillabario iragana poi ce n'è un altro il katakana che serve per trascrivere le parole straniere che sono marcate proprio da un altro sillabario e il dramma qual è? è che è in grado di leggere di decifrare di decifrare un testo giapponese eventualmente in iragana ma non sa cosa vuol dire primo perché non ci sono gli spazi che delimitano le parole nei libri giapponesi non ci sono gli spazi uno deve sapere già dove si ferma una parola quindi richiede una competenza lessicale pazzesca per essere in più i kanji si leggono in almeno tre modi diversi è una cosa io ho provato anni fa dovevo andare in giappone ho provato a imparare un po' di questo sillabario vi assicuro che è un'impresa disperata per uno soprattutto come me che non ha memoria visiva e quindi alla fine sono tutti uguali non riesco a leggere niente però appunto succede una cosa che nella lettura di un alfabeto più raramente succede a parte la separazione tra le parole che è una benedetta invenzione che però non c'era originariamente diciamo così nei manoscritti nei papiri nei papiri greci non c'è separazione delle parole perché scrivevano tutto attaccato poi quando andava male scrivevano anche in maniera bustrofedica per cui uno deve anche saper leggere alla rovescia e lo stesso succede con i manoscritti latini nei manoscritti latini è già un po' più si afferma nel medioevo la divisione una sorta di punteggiatura che aiuta a decifrare le parole però appunto uno deve succedere più raramente che uno legga qualcosa e non capisca assolutamente né dove inizia la parola né dove finisca e soprattutto che cosa vuol dire quella sequenza di lettere allora è abbastanza interessante che De Mauro leghi la lettura il primo senso di leggere alla scrittura alfabetica perché sembra quasi che abbia in mente proprio perché è un dizionario secondo me la spiegazione è perché è un dizionario legato all'uso all'uso dell'italiano degli italiani sull'italiano e quindi l'italiano ha una scrittura alfabetica e quindi il primo senso è esattamente quello il senso invece del giapponese diciamo con cui diciamo che un giapponese legge per De Mauro probabilmente è il sesto addirittura c'è una sorta di polissemia del verbo leggere che differenzia un lettore di alfabeti da un lettore invece di altri altri tipi di scrittura detto questo come premessa generale vi arroggia steso come pedanteria mi serve perché ci sono emergono da questi anche solo da questi testi di dizionario delle costanti diciamo che sono state in parte già richiamate volevo richiamare una cosa e cioè la lettura ovviamente come la scrittura è un fatto molto recente l'uomo avrebbe imparato a parlare avrebbe cominciato a parlare tra i 50.000 e i 100.000 anni fa la scrittura ha 5.000 anni 6.000 5-6.000 anni e quindi la lettura in questo senso qui anche lei ha 5-6.000 anni non di più però sicuramente c'era la lettura in questo senso lettura di eventi era già presente era già presente per cui paradossalmente il senso originario di leggere è probabilmente quello legato all'interpretazione del libro della natura non c'era ovviamente questa metafora è stata già esplorata per cui non ci torno neanche su Ugo di San Vittore non lo citerò benché l'abbia nel mio repertorio per cui la lettura effettivamente è stata sempre prima innanzitutto interpretazione di segni esterni di segni naturali fondamentalmente e poi è diventata si è specializzata nella lettura di segni scritti e non è stato citato qui ma tutti lo conosceranno le riflessioni la prima reazione la reazione forte diciamo così contro la scrittura viene da Platone Platone nel Fedro si scaglia un po' contro questa novità nel momento in cui nel dialogo tra il dio Teut e il faraone il faraone decanta no non mi ricordo chi è dei due che decanta la grande novità si Teut decanta la novità della scrittura perché finalmente possiamo aiutare la memoria e quindi ricordare meglio in realtà dice il faraone questo distrugge la memoria perché uno si affida a un supporto esterno diciamo così diremmo oggi e quindi perde la memoria si sforza di meno fondamentalmente e che in una cultura orale in cui era importantissimo ricordare tutta la questione omerica ce l'ha insegnato ma si lavorava con formule fondamentalmente per aiutare la memoria non con lo scritto e se lo scritto è arrivato solo dopo a depositare su papiro su altri strumenti scrittori un qualcosa che circolava oralmente in Platone nella reazione del faraone c'è proprio questa reazione contro questa novità tecnologica perché poi è una novità tecnologica e che ricorda un po' quello che succede anche con i computer quando sono stati introdotti i computer è esattamente la stessa reazione non ci si ricorderà più niente perché uno immagazzina tutto nella memoria del proprio pc e si potrà tranquillamente risparmiare di mandare a mente tante cose perché quello che abbiamo visto per ora dai dizionari è che c'è una sorta di rapporto di presupposizione a tre momenti a tre elementi studiare presuppone nella sua nel suo caso esemplare il leggere e il leggere presuppone la scrittura ci sono questi tre elementi che hanno una storia e dei rapporti molto particolari perché appunto a un certo punto nella storia della lettura succede questo fatto che sconvolgeva appunto Agostino che c'è qualcuno che comincia a leggere solo con gli occhi e quindi non ha risparmio alla voce legge più velocemente un'altra cosa che dice che dice Agostino è proprio che legge più velocemente perché ci si mette meno cioè l'articolazione della voce prende tempo non c'è niente da fare e quindi è sicuramente un fatto un'assoluta novità questo non toglie però che la storia successiva racconti che non è che si è passata immediatamente dalla lettura ad alta voce anche personale alla lettura con 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 gli occhi ci si è messo abbiamo messo diversi secoli diciamo così tant'è che nel nono secolo volevo citarvi questo questo esempio il legame ancora tra la scrittura e il suono perché nel nono secolo è ancora talmente forte talmente forte e rispecchia poi l'idea che da Aristotele in avanti e anche i grammatici i latini avevano e cioè che la scrittura sia una sorta di trascrizione del del parlato proprio perché ragionavano su un alfabeto un alfabeto che nasce come tentativo di trascrivere suono per suono elementare in una sorta di corrispondenza bionivoca tra lettere e suoni proprio per questo questo legame lo si trova ancora presente nei testi del nono secolo ma anche più avanti ma in una in una circostanza abbastanza particolare mi sto riferendo a un testo che è il primo testo in cui si parla si ventila l'idea che nell'eucaristia succeda qualche cosa un cambiamento di sostanza fondamentalmente è il primo è il testo di un certo Pascasio Radbert all'epoca i nomi erano quello che erano il suo avversario pensare si chiamava Ratramno di Corby insomma erano dei nomi un po' diciamo del nord Europa e questo Pascasio Radbert che era abate della Bazzia di Corby nel nord della Francia scrive questo trattato De Corpore Sanguine Domini in cui per spiegare che cosa succede dopo la consacrazione del pane e del vino usa proprio il rapporto strettissimo che ancora c'era tra lettera alfabetica scritta e suono elementare il rapporto considerato così immediato da prendere a modello non solo del rapporto tra ciò che appare quelle che saranno poi chiamate le specie del pane e del vino e il corpo e il sangue di Cristo che sono identici sono identici dice Pascasio che noi vediamo il pane e il vino solo perché Dio ci protegge cioè non ci vuole non ci vuole diciamo così scioccare ma quello è un pezzo di carne e quello è sangue quindi dice noi vediamo queste cose solo perché Dio ci vuole pedagogicamente ci vuole proteggere però dice lo stesso che c'è tra la lettera il carattere scritto e il suono che questo carattere esprime tant'è forte il legame con la lettura a voce alta diciamo così tra scrittura e lettura a voce alta poi lo stesso rapporto che c'è anche gli serve anche come modello per spiegare l'identità delle persone della Trinità addirittura cioè tra il padre cioè tra il figlio e il padre c'è lo stesso rapporto che c'è tra una lettera che lo chiama carattere e il suono che questo carattere comporta e lui dice questo tipo di segno particolare fa proprio una riflessione semiotica a tutti gli affetti e dice è un segno particolare perché lì c'è l'identità quasi l'identità tra espressione e contenuto lo traduco in tra significante tra segno e significato sono la stessa cosa identica così come il figlio è identico al padre questa è la ci sono vari e usa il termine figura infatti tutto il dibattito avviene alla corte di Carlo il Calvo futuro e cioè se nell'eucaristia ci succeda qualcosa in verità o in figura cioè succeda veramente qualche cosa oppure sia solo un modo metaforico di parlare la soluzione di Casio è proprio quella di dire succede qualcosa in verità e anche in figura però figura è il nome tecnico che non è la metafora è il nome tecnico che i grammatici all'epoca davano ai caratteri alfabetici perché era una delle tre caratteristiche della lettera della lettera la figura assieme alla potestas eccetera eccetera quindi il legame tra scritto e orale diciamo così è strettissimo ancora nel nono secolo non solo ma e qui arrivo anche alla questione dello studio da dove venga fuori anche la parola studiare studio fondamentalmente anni dopo insomma si riprendono modalità di insegnamento che sono tipiche delle scuole neoplatoniche fondamentalmente da Plotini avanti le scuole neoplatoniche hanno cercato di mettere insieme Platone e Aristotele costruendo proprio un curriculum una serie di studi di letture di letture obbligatorie che erano fatte per graduali insomma per gradi e si partiva da Aristotele dalla logica di Aristotele per arrivare al Parmenide al Parmenide uno dei dialoghi più difficili di Platone e che costituiva assieme al al Timeo il culmine della formazione del filosofo platonico perché non si chiamavano neoplatonici naturalmente siamo noi che li abbiamo chiamati così e quindi hanno costruito per primi l'idea di un curriculum proprio questa idea e in cosa consisteva l'insegnamento consisteva nella lettura e nel commento questa modalità è quella che attraverso Boezio Severino Boezio è passata all'occidente Boezio ha tradotto Aristotele soprattutto la logica ma non solo e l'ha commentata sono due opere abbastanza distinte e questa modalità di presentazione dei testi è rimasta è diventata il modello su cui si è costruita all'università fondamentalmente l'università riprende proprio questa modalità di insegnamento e infatti se voi leggete gli statuti dell'università di Parigi di Bologna le più antiche università europee diciamo così non parliamo di quelle cinesi che non so se chiamarsene pure università comunque si parla proprio in riferimento ai programmi si dice leggere il fare lezione Aristotele voleva dire leggere le categorie l'isagogio di Porfiro le categorie l'interpretazione eccetera eccetera e la lezione infatti è una lezione è una lezione è una lettura a voce alta pensate un po' che voi vi lamentate di quanto sono noiosi i professori universitari adesso pensate all'epoca ma potete vederlo anche nelle pietre tombali che ci sono al museo civico al museo medievale appunto di Bologna ci sono studenti che stanno svegli altri che stanno a pensare i fattori altri che formano lateralmente insomma succedeva esattamente quello che succedeva oggi però la lezione era mo te leggo il testo ti leggo il testo e poi ti dico cosa vuol dire ti dico prima di tutto ti ricostruisco qual è la forma latina corretta perché questa era la prima cosa che facevano i commentatori anche perché i testi che leggevano Aristotele erano tradotti dal greco al latino con un metodo molto particolare era il metodo del de verbo ad verbum cioè parola per parola il che voleva dire mantenere la sintassi greca nei testi latini e per quello poi che gli umanisti se la prendono tanto con i traduttori medievali perché dice questi non sapevano nulla di stile di latino e quindi erano dei veri e propri barbari Leonardo Bruni Aretino si scaglia contro contro Guglielmo di non mi ricordo più come si chiama il traduttore di oddio il domenicano traduttore di tante opere di Aristotele se la prende con lui e con tutti i traduttori latini proprio perché non sapevano rendere in un buon latino il testo di i bei testi di Aristotele o Platone era poco tradotto e quindi però non capiva che quei testi lì erano dei testi tradotti diciamo così funzionalmente non erano target oriented come si dice oggi ma erano source oriented cioè dove era una sorta di mappa del testo di Aristotele del testo greco originario e quindi serviva come una mappa bisognava saperla leggere e la prima cosa che facevano era proprio di rimettere a posto la sintassi facevano quella che si chiama sentenza e traducevano veramente quella è la traduzione secondo target oriented non è quell'altra e poi spiegavano con delle dubitazioni con delle note annotazioni che cosa voleva dire cosa voleva dire il testo quindi era la lettura era la lezione cioè era proprio una lettura in senso stretto a voce alta quindi è da lì poi che deriva anche lo studio perché in effetti l'università se ci pensate si chiamava studium si chiamava studium e c'era lo studium generale non solo l'università di rivero ma le scuole degli ordini mendicanti si chiamavano studia anche loro ed erano i luoghi in cui si seguiva un curriculum per arrivare a una formazione che permettesse di esplicare esplicitare una professione vera e propria qui a Bologna in particolare vanno specializzati in due settori la giurisprudenza che ha radici quella che ha radici più antiche e poi alla fine del XIII secolo arriva anche la filosofia naturale e la medicina infatti i primi che insegnano logica e filosofia lo insegnano ai medici alla fine del XIII secolo e ci sarebbe un sacco di cose da dire anche su queste cose però volevo semplicemente sottolineare il fatto che leggere rimane per secoli rimane per secoli il la lettura a voce alta la lettura a voce alta e che quindi forse si è giustamente enfatizzato il ruolo di Agostino e di Ambrogio nella nel passaggio alla lettura mentale diciamo così con gli occhi però non ci sono voluti secoli prima che si affermasse a livello anche perché poi la lettura non era cosa particolarmente diffusa diciamo era una minoranza un'elite che sapeva leggere e fino vi ricordo che in Italia fino all'inizio del novecento a metà del novecento anzi gli analfabeti erano la maggioranza non erano una minoranza adesso abbiamo un po' migliorato però possiamo sempre peggiorare non c'è non c'è fine al al peggio la lettura e qui mi riallaccio cerco di concludere perché se no non finisco più ditemi quando devo smettere abbattetemi perché se no non finisco più tra poco ok la questione della lettura e degli ipertesti era interessante anche perché ci dice qualcosa di più anche sul diverso modo di leggere che si ha nello studiare e così arrivo anche alla fine quando si cominciò a parlare di ipertesti si sottolineò la grande novità che era la lettura non sequenziale dei testi l'ipertesto permetteva di saltare da un test a un altro si chiama ipertesto perché è come la rete adesso fondamentalmente pieno di link per cui si può passare da un argomento all'altro senza seguire la lettura lineare in realtà la lettura sono i libri i primi ipertesti i libri con le note a piedi pagina o in fondo che sono già degli ipertesti a tutti gli effetti perché il numero della nota è un link che permette di trovare l'annotazione particolare per cui non è una novità concettuale l'ipertesto la cosa che lo rendeva così interessante era che tutto questo era diciamo così previsto già previsto e percorribile tecnologicamente con una tecnologia più avanzata fondamentalmente invece di dover sfogliare dei libri o di interrompere la lettura per andare a pescare la nota a vedere che cosa è interessante dice l'autore a questo proposito e lo si faceva con un click fondamentalmente la differenza è tutta lì per cui l'idea che la lettura non faccia saltus come potrebbe dire parla usando vecchio detto medievale non era vero neanche per i testi stampati quindi non c'è tutta questa novità infatti poi la storia di questa enciclomedia ciclomedia è abbastanza triste perché si è passati dal testo tecnologicamente avanzato alla carta si è ritornati indietro tant'è che io non ho più collaborato ad un certo punto testo che illustrava esattamente questo tipo di dinamiche di dinamiche più generali e lo studio lo studio lo studio giustamente è una lettura però la cosa che i nostri questi dizionari che vi ho fatto vedere non dicono scusate se torno indietro non dicono parlando di studiare e che era completamente assente dall'etimologia è la fatica fondamentalmente lo leggete un po' tra le righe che c'è forse c'è applicarsi nello studio questa cosa lo sforzarsi di fare qualcosa nello sforzo c'è una allusione alla fatica vi dico questo perché avendo una figlia dei figli anzi adolescenti sto constatando che studiare nelle scuole dell'obbligo anche le scuole superiori è una cosa molto diversa dallo studiare che poi si affronta all'università lo studiare delle scuole dell'obbligo e superiori è uno studiare in cui si inserisce un dovere che non va sempre d'accordo col piacere e quindi sento le lamentere di mia figlia secondo anno di liceo classico che dice ma perché devo studiare questa roba che non mi interessa per niente il greco in particolare il greco e la matematica che sono i suoi pezzi forti e effettivamente lì c'è una qualcosa che è completamente assente e cioè il gusto il gusto l'amore la passione la voglia cosa che invece dovrebbe essere presente nello studio universitario nello studio universitario che bene o male ha alle spalle una decisione più o meno influenzata da tanti fattori ma la decisione una voglia un desiderio di approfondire determinati campi di indagine e che dovrebbe portare a un miglior rendimento diciamo così perché quando si studia ciò per cui si ha una passione anche la lettura è più semplice quello che succede quando me lo ricordo anch'io quando ero studente ma a volte succede anche adesso quando sono un po' svagato quando leggo qualcosa posso continuare a leggere delle pagine intere senza capire nulla leggere con gli occhi ma non con la testa diciamo così e avere questa impressione di fuga dalla realtà è quello che succede anche nello studio nello studio obbligato nello studio obbligato è molto facile distrarsi poi adesso leggo appunto e vedo anche che gli studenti attuali sono multitasking per cui studiano con la televisione accesa il computer in chat continuamente acceso e quindi non so veramente come facciano a concentrarsi però evidentemente ci sono modalità e stili cognitivi completamente diversi che a volte sfuggono però non per questo possono essere peggiori o migliore dei nostri in tutto questo questo mi serve per arrivare a dire e concludo e concludo che non solo c'è una differenza tra lo studio obbligato e lo studio scelto in prima persona ma c'è ancora una differenza ulteriore tra lo studio scelto che bene o male però deve seguire delle tappe deve seguire i corsi universitari sono scostruiti dovrebbero essere costruiti in maniera da da favorire una gradualità e arrivare negli ultimi anni ad affrontare testi più difficili più impegnativi eccetera eccetera dovrebbero uso sempre il condizionale perché è tutto quello che ci piacerebbe che fosse ma non è così per chi invece come noi bene o male ha scelto lo studio come professione perché noi oltre a insegnare studiamo anche e ci pagano per farlo il modo di lettura è completamente diverso assomiglia di più a quello che raccontava all'inizio Marco dei suoi soggiorni nelle catacombe nei magazzini di sotto e cioè uno seguire l'ispirazione del momento la ricerca di base cercavo di spiegarlo stamattina ai colleghi ingegneri sono andato stamattina a salutare a salutare mi avevano invitato un collega di ingegneria un convegno sull'acustica architettonica l'acustica 3D l'audio 3D e sulle sue applicazioni eccetera siccome questo docente insegna anche per il Dams è un appassionato di musica eccetera eccetera allora ci teneva che ci fosse anch'io cercavo di spiegare che la ricerca di base esiste anche nell'area umanistica e che è esattamente quella che questi percorsi all'interno delle biblioteche e che non ha un'utilità una ricaduta né tecnologica né pratica perché proprio segue questi percorsi e qui di nuovo la lettura non è la lettura sequenziale è una lettura necessariamente necessariamente e intrinsecamente interrotta e ripresa continuamente perché fa parte proprio dell'ispirazione poi si seguono non so mi capita spessissimo di studiare dei testi e trovare una nota in cui si fa un altro che potrebbe essere interessante immediatamente vado prima lo cerco in rete perché non ci sembra che si possa scaricare e poi vengo in biblioteca e lo trovo molto facilmente è veramente questo il modo poi alla fine ovviamente deve produrre qualche cosa che noi siamo valutati anche sulla base dei cosiddetti prodotti della ricerca che sono le pubblicazioni però per arrivare a quello c'è tutto un percorso anche di autoformazione che però si può fare solo dopo aver finito tutti i gradi della formazione diciamo così del curriculum previsto dagli studi universitari quindi credo che in questo modo di studiare siano presenti tutte queste caratteristiche e scompaia sempre di più la caratteristica dell'obbligo del dovere che invece caratterizza le fasi più prime ed elementari dello studio in sé e così anche le caratteristiche della lettura chi studia per un esame deve leggere dalla prima all'ultima parola e in quell'ordine lì grazie grazie mi permetto di leggere due citazioni che avevo messo in questa leggenda insomma del programma studiai da giovane per ostentazione poi un po' per istruirmi ora per divertirmi e chi chi non apprezza il divertimento non sa che cosa perde montegna leggere e studiare senza riflettere è fatica vana riflettere senza studiare e leggere è pericoloso confucio beh ecco siamo affascinati da queste avventure attraverso la lettura e lo studio anche perché appunto abbiamo condiviso queste esperienze di avventura all'interno delle biblioteche aperte in cui si comincia si comincia a cercare un libro poi in realtà il libro di fianco è più affascinante poi quello di fianco è ancora più affascinante e questo è veramente un'esperienza siamo stati fortunati a poterla avere vissuta e a poterla vivere c'è qualche credo che il tempo sia un po' di tiranno no? non è tiranno il tempo è galantuomo allora ecco se c'è qualche se c'è qualche osservazione domanda su queste bellissime ecco era questo che io volevo fare in poche parole cioè volevo cioè nel mio nella mia idea questa idea del leggere e studiare vuol dire mobilizzare delle capacità delle insomma rompere col fatto che leggere sia un'attività determinata studiarne sia un'altra e incrociare anche attraverso le metafore ma anche attraverso la storia cioè la storia della lettura è una storia di grande che mi piacerebbe prima o poi poter c'è qualche domanda c'è qualche domanda dal pubblico pubblico direttore di studiosi perché io riconosco i miei studenti e quanto meno i studenti per cui io riconosco molti miei studenti e vari lettori ecco allora ti la era solo per mi sono dimenticato un sacco di cose che volevo dire perché non avendo fatto una traccia come ha fatto lui mi sono perso nelle mie digressioni la lettura voce alta in realtà è una cosa che mi è capitato di fare a parte che ci sono gruppi di lettura molto attivi ne conosco anche qualcuno qui a Bologna e in cui oppure non so farsi pensare al Radio 3 insomma che fa lettura di testi anche piuttosto impegnativi ed è molto molto utile mi è capitato come padre come genitore di due che sono adesso adolescenti quando erano più piccoli di leggere non solo le fiabe quando non sapevano leggere ma di continuare anche a leggere insieme tutti quanti tutta la famiglia a un certo punto c'è stato un periodo in cui mia figlia ancora non leggeva ancora aveva avuto 4-5 anni ha trovato il libro il primo libro di Harry Potter e ci ha detto mamma me lo leggi e abbiamo cominciato e abbiamo finito e letto tutta la saga di Harry Potter a voce alta vi assicuro che eravamo spesso in vacanza ci dedicavamo e quindi è stato un momento veramente molto bello soprattutto quando leggeva mia moglie così mi poteva assopire e addormentarsi cullati di qualcuno che legge è veramente un'esperienza che fa ritornare alle origini diciamo all'infanzia solo per aggiungere il fatto che insomma la lettura a voce alta è un qualcosa che non si dovrebbe abbandonare mai non solo ma sono molto contento di averlo fatto perché poi i miei figli sono diventati dei lettori forti già adesso nel senso che leggono più di un libro all'anno sicuramente è il minimo però leggono anche mia figlia a questa stanza si è detta Iva No che non so nella versione la versione integrale non quella ridotta per bambini che usava ai miei tempi e quindi sono molto contento che questa passione per la lettura sia poi passata attraverso queste forme quindi consiglio a tutti quelli che non hanno ancora figli ma che li avranno di praticare queste cose che non sono vizi solitari come dice lui ma sono vizi collettivi in qualche maniera e non fanno male alla vista soprattutto ecco io avrei una una questione da porre e in particolare sul tema della lettura e scrittura cioè c'è una cosa molto bella che dice Montegni e che poi è ripresa anche voglio dire sotto altri nomi e cioè che leggere significa anche scrivere cioè leggere la parola scritta che l'autore mi offre diventa poi anche mia parola cioè come dice lui la parola è metà di chi legge e metà di chi scrive per cui appunto c'è questa idea di questa assimilazione e di questo scambio per cui appunto quando a un certo punto tu in particolare dicevi ecco questa storia di quello che dice Proust a proposito del libro interiore di segni sconosciuti che mi vengono scritte non è anche come dire un libro che io ricevo dall'esterno ma che nel contempo nel momento in cui lo leggo lo sto riscrivendo cioè questo tema della cioè ciascuno poi ha il suo libro voglio dire leggendo Montegni io leggo il mio Montegni in qualche modo è diventato il mio Montegni come dice lui io faccio un bouquet di fiori di altri ma poi il bouquet è mio insomma sì questo secondo me è inevitabile cioè il rapporto lettura-scrittura lo troviamo in quasi tutti gli autori poi arrivo a questo voglio solo dire due cose perché ho capito l'obiezione l'obiezione di fondo di Costantino cioè io e Costantino ci siamo mossi su due piani che secondo me erano paralleli non coincidenti cioè tu dici alla fine lettura e studio anche etimologicamente si intrecciano molto si intrecciano molto è chiaro che nell'ottica di una cultura come quella medievale appunto l'alexio è la base dello studium cioè l'università si basa che poi ancora oggi in realtà io lo dico sempre che ancora oggi poi è così perché non leggiamo integralmente dei testi però senza testi da leggere la lezione non avrebbe senso di essere no questo l'ho capito molto bene anche dal punto di vista etimologico è chiaro che che io ho esagerato sulla questione della contrapposizione diciamo a lettura come attività di piacere libero e studio invece come attività coatta tu dici giustamente ma in realtà se poi andiamo a vedere in altre epoche queste due cose coincidono sì sì questo è perfetto però io dalla mia ho solo da dirti che comunque la la contrapposizione in epoche moderne la si sente cioè se noi guardiamo in epoche cioè lettura è diventato sinonimo appunto secondo me dal seicento in poi lettura è diventato sinonimo di rischio connesso ai fantasmi della mente ho saltato ho saltato volontariamente tutto tutto una un contesto psicoanalitico che poteva anche ci sono delle cose che Freud dice molto belle anche su come la mente funziona come libro come libro che viene inciso che si legge che si riscrive eccetera eccetera io credo che comunque la noi la contrapposizione la sentiamo ma io non volevo fare assolutamente un elogio della lettura come libertà diciamo così e dello studio come coercizione secondo me appunto sono è impossibile è impossibile separarle perché alla fine diventano cioè l'uno tiene sotto controllo l'altro voglio dire il lettore puro rischia poi di abbandonarsi talmente a una specie di effimero che non 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 ha niente il lettore puro paradossalmente può diventare anche un lettore vuoto il lettore vero è quello che è anche studioso è un lettore che studia anche così come lo studioso vero senza la componente lettura potrebbe diventare e rigido ecco è per quello che appunto volevo mettere l'accento su alcune caratteristiche del verbo leggere e altre del verbo studiare con delle pratiche di lettura e pratiche di studio che nei secoli poi è chiaro che andando a fare della storia vediamo come la questione ecco di Proust perché Proust mi sembrava importante perché Proust dice che l'intelligenza ti serve solo quando hai letto nel libro dei segni interiori quindi solo quando sei diventato lettore interprete decifratore di segni e quindi automaticamente diventi anche scrittore perché poi alla fine diventi anche scrittore è chiaro non diventi scrittore a un livello di consacrazione pubblica però diventi scrittore questo è inevitabile così come credo che sia inevitabile che ognuno di noi ha il suo modo di leggere però tu hai il tuo Montaigne per esempio che è un Montaigne comunque tuo ma anche professionale quindi in un certo senso lo devi poi mettere in comune con un gruppo lo devi mettere in comune che siano i tuoi studenti che siano gli esperti di Montaigne diventa poi impossibile dire il mio Montaigne contro il vostro Montaigne cioè il tuo Montaigne è anche il frutto di questo di questa circolazione continua di confronti e poi è chiaro che magari il tuo Montaigne nel Montaigne ecco esatto è sempre una cosa che si riscrive e che a un certo punto se diventa se diventa una cosa pubblica no? se diventa una cosa pubblica diventa un Montaigne da condividere e quindi diventa esatto qualche altro intervento per concludere questa bellissima apertura di questo ciclo allora io ringrazio ovviamente i relatori ringrazio il direttore della biblioteca il personale della biblioteca che ci aiuta sempre a preparare questi nostri incontri ringrazio il pubblico presente che credo appunto sia molto sollecitato da questi nostri incontri molto trasversali ecco per cui mi piace pensare che siamo è vero in una biblioteca di discipline umanistiche ma che leggere e studiare sia una modalità talmente polisemica va bene ecco che e che sia poi anche questo che ci aiuta a leggere a studiare cioè per parlare sempre di Descartes Descartes dice di leggere i suoi libri prima come un romanzo secondo stando come di smontarlo come una macchina e poi terzo e quarta volta di cominciare a pensarci sopra ecco grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti